impara e ripeti questa meravigliosa affermazione scientifica di guarigione di parohansa yogananda da lui così definita io sono immersa nella luce eterna e saperne a ogni particella del mio essere io vivo in quella luce lo spirito divino mi colma dentro e fuori se vuoi puoi ripeterla anche in questa altra versione con cui parahansa yogananda la propone nelle sue meditazioni metafisiche io sono immersa nella tua luce eterna la tua luce eterna permea ogni particella del mio essere io vivo in quella tua luce il tuo spirito divino mi colma dentro e fuori la troverai scritta qui nel testo che accompagna questo video imparala e ripetila ogni volta in cui tu senta che la tua mente o il tuo cuore o il tuo corpo o la tua vita le tue relazioni stiano vivendo un tempo di buio ripetila 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 dice profondamente spesso e continuamente ripetila a voce udibile o a voce silenziosa o prima a voce udibile più alta meno alta sussurrando e poi in silenzio vedrai come la vibrazione della luce che tu stai affermando incomincerà a risplendere proprio in quella tua mente in quel tuo cuore in quel tuo corpo in quella situazione che stai vivendo che ha bisogno di luce per ora respira e inspira quella luce in ogni tua cellula fisica mentale emotiva spirituale inspira ed espira fuori ombra veli oscurità nubi il buio in ogni sua forma da quelle cellule fisiche mentali emotive spirituali ad ogni inspiro inspira luce sempre più profondamente ad ogni espiro espira buio fino a che sentirai che quella luce ha preso spazio si è fatta spazio e risorta dallo spazio profondo di te bisogna ripetere un pulsante ecco Morio ecclo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.